So people, welcome to the Cosmic Radio, and nothing. I am in this fantastic park, but it's raining. But anyway, I would like to improvise something for you. Ojiu, benvenuti alla trasmissione. Praticamente sta piovendo, ma quella quarantena sta cambiando, sta finendo. E io sono andato qua a improvvisare qualcosa. E adesso vado. Ojiu. 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 A Trella. Ojiu. Ojiu. What's up? Ojiu. 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 qualcosa di... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.